Ritarezza e Randy Griff tolgono i quattro ferri. Queste le variazioni, parte piano Randy Griff, si ritrae Rani Medefas. Stacco della macchina con Ramoses Delidei che scavalca Renault RM. Poi Rampichino getta che si ritrae in terza posizione davanti a Ritarezza e Randy Griff alla retroguardia Rani Medefas. Si va all'imbocco della prima curva, 13.8 i primi 200 metri con Ramoses Delidei leader. Alle sue spalle tutti incolonnati con Renault RM che precede Rampichino getta, poi Ritarezza 28.9 i quattrocento iniziali. Davanti alle tribune non ci sono variazioni, nessuno accenna a prendere la via del largo. E allora ne approfitta Ramoses Delidei, ora Renoir si tiene un po' discosto dai paletti, 43.8 i primi 600 metri. Ramoses fa buona guardia, poi Rampichino getta in terza posizione a precedere Ritarezza, Randy Griff e Rani Medefas. I cavalli affrontano la seconda curva, si arriva al paletto di metà gara in 59.5 ma 15.7 di frazione. Per ultimo rettilineo Randy Griff che si affaccia a largo pedinata da Rani Medefas ma intanto Ramoses Delidei mette assieme un chilometro sul piede dell'1.14.5. Renoir si affaccia, poi Randy Griff che sopravanza Rampichino getta 500 metri scarsi alla conclusione. I cavalli affrontano l'ultima curva in vantaggio, Ramoses Delidei che spara 14.1 di là, 1.28.7.200. Renoir che abbozza Rani Medefas e viene via in mezzo alla pista quando i cavalli completano la curva finale. Ramoses in vantaggio su Rani Medefas che supera Randy Griff, poi Renoir OM. Rani Medefas che prova di ingambarsi, Ramoses che è richiesto, Rani Medefas che però attacca, il palo si avvicina, Rani Medefas che porta a casa la vittoria. Davanti a Ramoses Delidei al terzo posto Randy Griff, 28.9 ad arrivare, 1.57.7 il totale. 1.13.6 la media al chilometro, bello anche il gesto dopo il traguardo, il 5 tra Vincenzo Luongo e Giovanni Petraroli. Intanto il replay delle battute conclusive, Ramoses Delidei è battuto, Rani Medefas che porta 10 risultati utili consecutivi. La terza vittoria nel 2014, Vincenzo Luongo in sediolo, Massimo Finetti al training, sopra faste SRL e i colori. Al terzo posto una buona Randy Griff, 5, 2, 6, l'arrivo del centrale.